La cosa meravigliosa per me è che Mer non ha dato mai nessunissimo insegnamento. Mer esplorava. Non aveva proprio niente da insegnare. Per un certo tempo si è subarcata l'ingrato lavoro di dire ai discepoli. Sapete, non è così né cos'ha. Ecco com'è. Bisogna ci vuole questo e quest'altro. Ma una volta terminato tale compito, Mer era l'esploratrice della nuova specie. Però non è che sapesse in precedenza le cose, lei. Sì, perché Mer non conosceva la strada. E cosa davvero prodigiosa è che ha preso completamente la mia vita per non so quale grazia. Mer ha voluto che io fossi il testimone o il confidente della sua esplorazione. Cioè, di tutte le sue angosce, le sue domande, i suoi apparenti fallimenti, mi raccontava tutto. Aveva cominciato a parlarmi così, come si parla a un bambino, raccontando. Io le facevo tutte le domande che potevano passarmi per la testa e lei rispondeva alle mie domande. Ma piano piano mi conduceva verso la sua esplorazione, come se mi volesse far partecipe. Io, cucciolo d'uomo, di quanto avverrà dopo questo cucciolo d'uomo. Di come si fa per arrivare a un dopo l'uomo. Ma quel cammino lei non lo conosceva. Quando ha cominciato lo yoga nel corpo aveva 80 anni e l'ha cominciato forse innanzitutto per amore, perché colui che amava, Sri Aurobindo, se n'era andato. Era morto, come si usa dire. La morte, ecco, era il nemico. La morte era ciò che alla fine inghiottiva sempre, o così pareva l'amore. Era ciò che trionfava sempre. Così era come se lei volesse strappare Sri Aurobindo alla morte, se così posso dire. Ovvero strappare quella maschera di morte per sapere che cosa si nasconde dietro. Un po' come la storia di Orfeo ed Euridice. Che cosa c'è dietro? Perché la morte? E così Mer mi ha trascinato, con un pretesto o con un altro, nella sua esplorazione. All'inizio mi mandava a chiamare. Stava seduta su una seggiolona. Io mi mettevo sul tappeto per terra e l'ascoltavo. Conosceva tante cose, davvero. Ascoltarla era una meraviglia. Ma soprattutto, a poco a poco, andava raccontando la sua esperienza. Ma che cos'è questo yoga nel corpo? Beh, ci immaginiamo che il corpo sia la cosa più semplice che esista. È il nostro corpo, perbacco. E dunque deve essere qualcosa di ben noto. In che modo questo corpo che ci pare così conosciuto, potrà mai produrre qualcosa di diverso da un nuovo esemplare fatto della stessa materia? I biologi vi diranno, semplice, basta modificare un poco l'ordine delle molecole e si produrranno delle variazioni. Ma sappiamo tutti come tali variazioni possano essere più che altro mostruose. Oppure, se qualche raggio cosmico arriva a modificare l'ordine di concatenazione degli aminoacidi, può verificarsi una variazione. Ma è comunque qualcosa che prenderebbe migliaia e migliaia di anni. Allora dov'è la via d'uscita, se la biologia sembra dirci che non ci potrà mai essere nient'altro che un uomo. Magari un superuomo in senso intellettuale, o magari un mostro in senso fisiologico. Ma un'altra specie come può essere possibile? La biologia non ha risposte. Si limita a dire il mescolarsi di certe molecole può, dopo un certo numero di migliaia di anni, produrre una variazione che provocherà a sua volta altre variazioni le quali finiranno per dar luogo a un'altra specie. Allora eravamo nel 1960 e già era possibile capire che il mondo non poteva più aspettare alcuni millenni, che il problema era alle porte, che bisognava trovare la risposta. Allora dov'era la risposta in questo corpo, appunto, se i biologi non ne davano nessuna. Ma che cos'è poi il corpo? Ha l'aria semplicissima, ma in realtà è quanto di più sconosciuto esista per noi, perché non lo conosciamo affatto il nostro corpo. Che ne sappiamo alla fin fine? Siamo ricoperti da strati e strati successivi e viviamo prevalentemente nello strato superiore, che è quello mentale, intellettuale. In effetti, tutta la nostra vita si svolge nella mente. Non abbiamo un contatto diretto col corpo, ma solo attraverso ogni genere di idee e ogni genere di abitudini, ma del corpo in sé. Qual è davvero? Che ne sappiamo? Se dunque vogliamo cominciare a scoprire il corpo, quale è davvero? La biologia, quale è davvero? Non attraverso un microscopio, ma quale viene vissuta? Bisogna innanzitutto, evidentemente, attraversare lo strato mentale, quel primo strato composto del coacervo delle nostre idee, dei nostri pregiudizi, di tutto quello che abbiamo continuamente l'abitudine di vivere attraverso le suggestioni mediche e ogni suggestione possibile. Insomma, tutta la vita nella quale stiamo rinchiusi. ma questo è solo il primo strato da attraversare per avvicinarsi al corpo. Bisogna innanzitutto far tacere tutto il chiasso mentale che avviluppa il corpo. Poi, proseguendo la discesa, il cammino della discesa, lo chiamava infatti Mer, incontriamo un secondo strato, quello in cui si accumulano le reazioni affettive. Vari a dire tutti i sentimenti di cui ci nutriamo, tutte le reazioni emotive che proviamo. È uno strato estremamente brulicante e già molto più vischioso dello strato intellettuale. Anch'esso ci condiziona continuamente. È infatti come una trama che ricopre tutto il corpo. Com'è possibile, allora, vedere che cosa c'è nel nucleo cellulare, se si può chiamarlo così, finché continua a essere ricoperto di tutti questi strati? Bisogna perciò attraversarli, quegli strati. C'è dunque da attraversare una seconda trama o un secondo strato affettivo-emotivo per avvicinarsi ancor più al corpo. E a questo punto la discesa si fa sempre più difficile. bisogna, appunto, ridurre al silenzio tutto il chiasso emotivo, tutte le reazioni di cui siamo astento coscienti, proprio perché le viviamo con la massima naturalezza. Quindi si arriva al terzo strato, la zona delle sensazioni. Ora si comincia ad avvicinarsi al corpo, cioè a tutte le sensazioni fisiche, a tutte le reazioni spontanee del corpo, di paura, di apprensione, di aggressività, di... si scopre a questo punto tutto un mondo formicolante che tuttavia non appartiene al corpo, bensì alle abitudini che sono state imposte al corpo. Abitudini impostegli dall'educazione, abitudini che vengono dall'atavismo, abitudini che vengono dall'ambiente. Pensiamo di non poter fare questo o quello ed ecco non è possibile. Di non poter mangiare un certo cibo, di non poter resistere a più di una certa temperatura, di non poter... e così il corpo resta condizionato da una specie di spessissimo strato di... non puoi, non puoi, non devi... di... questo è impossibile e quest'altro è impossibile e quest'altro invece è possibile. Il corpo è sottoposto in effetti a un immane condizionamento. A questo punto cominciamo ad avvicinarci a qualcosa che si fa, come dire, serrato, acuto, pericoloso. Ci avviciniamo infatti a quanto costituisce la radice della morte nel corpo. ci accorgiamo che a smuovere le infinitesimali abitudini che ricoprono la nostra sostanza cellulare, il nostro corpo, appena si comincia a smuoverne qualcuna, ciò provoca nel corpo una vera e propria ribellione. Un panico, anzi, un terrore. Ed ecco che finalmente si tocca il fondo. Un desiderio di morte, un richiamo della morte. Come ci fosse in fondo alla coscienza, quasi a contatto col corpo, anche se non ancora dentro, perché non si tratta ancora veramente del corpo, come ci fosse qualcosa che aspira alla morte. C'è qualcosa, infatti, per cui la vita è una sorta di catastrofe. Perché bisogna continuamente lottare, essere in tensione, prendere, rifiutare. La vita è una sorta di perenne minaccia. In fondo al corpo si scopre dunque una specie di aspirazione al riposo, all'inerzia. È come se lì si trovassero ammassati tutti i vecchi ricordi evolutivi. E nel fondo come una nostalgia del minerale. la pace del sasso, proprio così, di quando la vita non era ancora nata, quando era ancora statica. C'è questo bisogno dunque. In fondo al corpo c'è un bisogno di riposo, di inerzia, di far cessare soprattutto l'incubo continuo di dover lottare, agire, reagire. Una sorta di immaginazione, immane tensione, cui tutte le cellule sono sottoposte e che le obbliga a lottare. Per cui dietro c'è un'aspirazione alla morte. Ma non è che questa esplorazione venga vissuta in astratto. Viene vissuta attraverso molte malattie. Parlo di Mer, dell'esplorazione di Mer. Appena si tenta di far cambiare l'abitudine, ecco che tutto viene scombussolato. E basta il minimo scombussolamento perché compaiano da tutte le parti, in fondo al corpo, ogni genere di ansietà, di timori, di paure. Ah, adesso morirò. Ah, sarà di sicuro un cancro. Ah, sarà la tal malattia. Una quantità di suggestioni formicolanti in fondo al corpo. Bisogna dunque attraversarle. Bisogna attraversare tutte queste illusioni di malattia. Bisogna, sì, bisogna attraversare la morte. Evidentemente è difficile riassumere un simile cammino. Ma potrei dire che si verifica un fenomeno per cui è come venir messi continuamente di fronte alla distruzione per trovare la soluzione. Per trovare cioè una forza più potente di quella legge distruttiva che si trova che sembra trovarsi in fondo al corpo. Come se attraverso le maglie di tutte le trame sovrapposte che ricoprono il corpo, a mano a mano, che si scende dentro al corpo stesso, si percepissero di quando in quando strane insufflazioni o infiltrazioni e poi d'un tratto il corpo si trovasse per alcuni secondi in una, in un mondo in cui le leggi sembrano andare all'aria, non avere insomma più potere alcuno. E dove tutte quelle cose che parevano talmente incoercibili si dissolvessero di colpo in qualche cosa di più forte della legge della morte, di più forte della legge della malattia, di più forte di qualcosa per cui tutte le leggi sono un'illusione. mer ha avuto, ad esempio, non so quanti attacchi cardiaci, attacchi di cui normalmente uno muore, e allora nel momento in cui si trovava sulla soglia della morte, proprio così, veniva a infiltrarsi qualcosa d'altro, come alcuni istanti di luce o di potere, che d'un tratto soffiava via quell'incidente apparente. e allora niente più malattia, niente crisi cardiaca, non esisteva più. Ma bisogna che l'esperienza si riproduca una, due, cento volte perché le cellule del corpo comincino ad abituarsi a un'altra legge, a uno stato in cui tutte quelle vecchie suggestioni cominciano a sparire. Solo lentamente il corpo impara un'altra possibilità. Ma la cosa straordinaria, se abbiamo il coraggio di compiere quella attraversata attraverso tutti gli strati, è che d'un tratto ci accorgiamo come tutte le leggi di ferro che ci imprigionano, definite dalla matematica, definite dalla medicina, definite dalla fisica, non siano nient'altro che un'enorme illusione. Ci accorgiamo, insomma, che non esistono affatto, che a una certa profondità cellulare o a un certo grado di purezza cellulare, se così posso dire, quando cioè si giunge all'origine della vita cellulare, sgombra di tutte le sue incrustazioni o rivestimenti, c'è un qualcosa che si trova al di fuori della morte, al di fuori dell'incidente, al di fuori della malattia. Quella cosiddetta libertà che è possibile trovare al sommo della coscienza, la ritroviamo nel corpo. Ma la ritroviamo a piccoli soffi, e già, attraverso migliaia di esperienze minute, perché il corpo è molto lento a imparare ad essere libero. Il corpo non crede alla propria libertà, crede a tutte le proprie abitudini, crede a tutte le malattie, crede a tutti i cataloghi della medicina. Se fai questo, ti succederà quest'altro. Tutto il nostro mondo, il mondo nel quale viviamo, è fatto di leggi, di concatenazioni, di cause ed effetti, continuamente. Fa la tal cosa, e ti succederà la tal'altra. Non possiamo capire fino a che punto siamo fisiologicamente prigionieri. Possiamo ammettere di essere prigionieri di un'idea, di un sentimento, di una sensazione, ma quello che non sappiamo è che siamo prigionieri fisiologicamente e che esiste una libertà. Se riusciamo ad attraversare tutti gli strati successivi dei condizionamenti, arriviamo a una libertà che si trova proprio in fondo al corpo. O a quel punto, allora, sfuggiamo alla legge, alla cosiddetta legge nella quale ci rinchiudono i biologi. D'un tratto ecco sorgere qualcosa d'altro. Ci immaginiamo che l'oltre l'uomo consista in uno sparire del corpo per cui passeremmo nel cosiddetto spirito oppure nel perfezionare lo strumento esistente. diventando così un superpesce sempre prigioniero del suo vaso. Magari con certe pinne in più o con non so quale straordinario strumento in più. Ma la verità è che stiamo dentro a un vaso e che l'altro lato del vaso non è la morte e che non si può passare dall'altra parte del vaso migliorando gli strumenti di cui disponiamo all'interno del vaso. un giorno è successo che certi pesci forse nell'era secondaria si siano venuti a trovare in corsi d'acqua sempre più magri ed abbiano perciò dovuto per necessità imparare a respirare in un altro modo a passare cioè dalla respirazione branchiale alla respirazione polmonare. Hanno dovuto poiché asfissiavano sempre di più trovare un altro modo respiratorio e così sono nati gli anfibi sono usciti dal vaso sono usciti dal loro vaso ma dall'altra parte del vaso non hanno trovato la morte bensì un altro modo di respirare. La fine del pesce non vuol dire la sua morte ma un'altra specie anfibia che esce fuori in un'altra aria. Ebbene al fondo della pseudofisiologia a noi nota pseudo perché non descrive il vero corpo ma semplicemente un'idea del corpo un'abitudine del corpo un vaso nel quale siamo rinchiusi al fondo di quella falsa fisiologia si rompe appunto la parete di vetro che ci tiene rinchiusi e passiamo in un altro come potrei dire non si tratta di un altro mondo poiché l'anfibio non passa certo in un altro mondo usciamo insomma in un'altra aria materiale in un altro modo di respirare nella materia in un'altra legge perché ciò che regola l'uccello o ciò che regola il pesce sono leggi radicalmente diverse pare ebbene una volta infranto il nostro vaso non già illusoriamente al sommo della coscienza ma in fondo al corpo una volta attraversati tutti quegli strati di condizionamento emergiamo realmente materialmente fisiologicamente in un'altra possibilità di essere in un corpo arriviamo a quella che Mer ha chiamato coscienza cellulare a quella coscienza cellulare che è un potere delle cellule una visione cellulare cioè un modo di essere nella materia radicalmente nuovo in cui la morte non ha più alcun potere in cui nessun incidente ha più alcun potere in cui vediamo in modo diverso è tutto un nuovo modo di essere che Mer malbettava che cercava di spiegarmi giorno per giorno durante 19 anni sì sono stato ad ascoltarla per 19 anni e ogni volta erano esperienze vertiginose per lei quando si passa tutto ad un tratto all'esterno del vaso o al di fuori delle maglie della trama ogni cosa è davvero sorprendente e angosciosa per la vecchia fisiologia o per la vecchia maniera di comprendere lì per lì tutto sembra un po' una follia infatti molte persone attorno a Mer pensavano che stesse dando i numeri già perché è assai eccentrico uscire da una pelle umana per entrare in un nuovo stato d'essere che ne direbbe il vecchio pesce davanti a un primo anfibio o che ne direbbe il vecchio rettile del secondario davanti al primo archeopterix direbbe sicuramente che non è possibile è pazzo è un'allucinazione è impossibile 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 e tutto il nostro mondo materiale compreso quello dei discepoli attorno a Mer stava lì a ripetere e ripetere non è possibile non è possibile in quel mondo ma ne rendo conto adesso io ero uno che diceva ma sì che è possibile è possibile anzi è l'unica possibilità proprio perché c'era in fondo a me non una fede ma una maniera di respirare a fondo una certezza ma sì che è possibile è anzi l'unica possibilità ne abbiamo abbastanza delle Upanishad e dei Veda e delle Bibbie di tutte le vecchie storie umane e di tutti i marxismi bisogna trovare un altro modo di respirare ed era là che mi tuffavo con mer insomma che andavo davvero come un vecchio annegato umano che cerchi disperatamente di di trovare l'altro modo di respirare di l'unica di di